Si è concluso un biennio di straordinaria crescita per le imprese dell'Emilia-Romagna che hanno imboccato la strada della trasformazione digitale. Il prodotto interno della regione è cresciuto del 3,6% nel 2022, meglio di Germania e Francia. Una tecnologia su tutte l'ha fatta da padrona in questa trasformazione, il cloud computing. Il Politecnico di Milano stima un giro d'affari ampissimo di più di 4 miliardi, 4 miliardi e mezzo che interessa però anche le piccole e medie imprese che continuano ad investire in cloud. Quindi certamente prospettive di crescita. Pensiamo a utilizzi veramente diversi del cloud computing. Ci sono aziende che fanno per esempio nella meccanica anche assistenza da remoto e manutenzione delle macchine. A distanza ci sono aziende della moda invece che gestiscono per esempio le vendite nei vari negozi del mondo. C'è Unicredit che credo che abbia un numero incredibile di lavoratori che lavora su cloud. È evidente quindi che lo sviluppo, la strada insomma sia una strada già aperta e in piena espansione. Luca Bulgarelli, sento parlare spesso di strategie multicloud. Di cosa si tratta? Oggi l'offerta sicuramente è cresciuta tanto, i grandi player americani, europei, anche nazionali e anche la domanda è cresciuta tantissimo come diceva Rosalba perché chiaramente le aziende si stanno aprendo al cloud e da un certo punto di vista per oggi con questa grande offerta hanno un po' di confusione in testa perché sono i giganti americani, o vado con l'europeo o vado con il nazionale perché mi fundo un po' di più della paternità dei dati. Ecco oggi noi abbiamo un nuovo ruolo che è quello di consulenti multicloud. Avendo percorso tutti questi cloud oggi riusciamo a indirizzare molto bene le aziende su quali cloud prendere perché anche le aziende non hanno un cloud preferenziale perché ogni applicazione ha il suo cloud da sposare. Quindi noi andiamo lì, capiamo bene l'applicazione delle aziende e confezioniamo quello che io chiamo il bouquet del cloud quindi tanti cloud perfetti per le aziende con due driver la qualità e i costi, quindi grande attenzione anche ai costi e questo è il nostro grande pregio. Sky Backbone Inginio, nata a Carpi 11 anni fa dalla intuizione di alcuni appassionati è oggi una tra le migliori società informatiche della regione ed ora pensa a nuove sfide. Beh abbiamo molti progetti, io li classificherei in due filoni abbiamo un filone che chiamerei qualità della vita ed un altro che direi, lo definirei tecnologia etica vogliamo certificare l'azienda per quello che è la parità di genere viviamo quella che è l'informatica, la consulenza informatica in un mondo tipicamente, storicamente maschile invece vogliamo aprirci molto di più l'azienda deve essere capace di essere un luogo ideale di lavoro anche per le giovani coppie, anche per le mamme e per le donne penso che questo consentirà l'introduzione di molte più figure di ingegneri ma anche donne in azienda per portare un nuovo vento una nuova cultura molto più orientata a ragionare sul lungo periodo molto più orientata a diciamo quella che è l'innovazione il futuro ci porterà sempre di più verso l'automatizzazione l'automatizzazione già pervade tantissimi ambiti della nostra realtà ma nella sicurezza informatica sarà sempre più presente penso che come cercare di automatizzare il processo della sicurezza informatica tramite le scoperte di codice malevolo all'interno di tutto ciò che è nella sicurezza informatica e sicuramente un controllo profondo di tutto ciò che riceviamo ad esempio le email e anche un controllo su tutto ciò che inconsapevolmente noi stessi portiamo fuori dai nostri dispositivi Come sarà il 2023? In attesa di sapere se dovremo affrontare una hard landing oppure una mild recession come dicono gli americani ascoltiamo l'outlook di Rosalba Reggio direttrice della web tv del Sole 24 Ore Per quanto riguarda la tecnologia è una strada di non ritorno anche perché la tecnologia ormai è trasversalmente dentro ogni settore dell'economia e della produzione e quindi non c'è altra strada certo l'anno sarà difficile perché l'inflazione, il rallentamento mondiale il cambio di politica monetaria delle banche centrali europee la guerra hanno ovviamente peggiorato lo scenario quindi noi come Italia venivamo da un anno di crescita superiore al 6% avevamo addirittura vissuto l'esperienza positiva di rivedere al rialzo le stime di crescita di un paese e adesso invece quest'anno avremo ancora una crescita ben superiore al 3% ma per l'anno prossimo c'è chi prevede una lieve recessione chi prevede un segno più ma parliamo veramente di noccioline 0,2% 0,3% e si conclude questo nostro appuntamento un saluto a tutti e arrivederci ai prossimi incontri sulla tecnologia